Domenica 16 luglio, Ippodromo di Minovo, proviamo a ritornare ad essere in cronaca diretta con le immagini riprese dal monitor dell'Ippodromo. Prima corsa, 2060 metri, Vaniglia Club, Vittoria di Grana, Vasco Zagdasti, Vita di Casei, Vittoria Ross, Vincent Fermi e Vincenzo AMG, seconda fila, Vendam Hans, Volatur, Vulcaniano e basta, il favorito è Vincent Fermi. Va al comando Vaniglia Club, Vaniglia Club in vantaggio c'è l'errore in Vittoria di Grana che viene squalificata, in seconda posizione Vincenzo AMG, poi in terza ancora per corsia esterna il favorito Vincenzo AMG, Vincenzo Fermi che sta procedendo, ecco la procedzione del favorito Vincenzo Fermi che arriva a completare la media di 1.17.2, i primi 460 metri, gli ultimi 200 in 16.4. Si va all'attacco della seconda piegata, è passato il vantaggio il favorito Vincent Fermi, in seconda posizione si mantiene Vaniglia Club in terza Vincenzo AMG, per corsia esterna Visa di Casei che ha in scia Vendam Hans. Si esce così dalla piegata con Vincent Fermi che continua al comando, è 1.05.3 per gli 860, 16 scarsi gli ultimi due, si viaggia a media di 15.9. Passaggio davanti le tribune con Vincent Fermi che continua sempre al comando. Vincent Fermi in vantaggio in seconda Vaniglia Club, in terza all'esterno Visa di Casei che ha sempre in scia Vendam Hans, poi il gruppo. Sempre all'avanguardia il numero 6, Vincent Fermi che è il favorito, con una media di 1.16 per arrivare agli 800 finali, con un tempo totale di 1.35.7. All'avanguardia Vincent Fermi, seconda all'esterno Visa di Casei che ha all'interno Vaniglia Club, poi nel gruppo prova a migliorare anche Pulcaniano, mentre in generale Visa di Casei che viene squalificata. All'avanguardia sempre Vincent Fermi, in seconda rimane Vaniglia Club, in terza passa Vendam Hansi, sempre 1.15.2 per arrivare ai 400 conclusini. Il resto è in addirittura con Vincent Fermi in vantaggio, intanto la squalifica per Vendam Hansi, in netta evidenza Vincent Fermi, 4.16 per gli ultimi 200, media di 15.6 per arrivare ai 200 finali. Allunga Vincent Fermi che va a concludere su Vaniglia Club per la terza, lo sprint di Vulcaniano. 2.34.5 il tempo totale, media di 1.15, facile successo di Vincent Fermi numero 6, ecco l'immagine di Roland, in fine fase conclusiva con Vincent Fermi numero 6, che finisce bene avanti al numero 1 Vaniglia Club, mentre in terza andrà a sprintare il numero 10 Vulcaniano. Quota del totalizzatore per il vincente, 2.34. Il povero alla quota pizza era aperto a 2.25.